Il contrasto andava avanti da tempo tra il prefetto di Rimini, Alessandra Camporoto e la sindaca di Riccione Renata Tosi, seppure non era mai emerso pubblicamente. Ora è esploso. In una recente intervista al Corriere Romagno sul bilancio del suo mandato in chiusura, il prefetto ha detto Ho notato comportamenti un po' anarchici da parte di certi sindaci, ma che si sono risolti. Però il fatto che il sindaco di Riccione non abbia partecipato all'ultimo comitato provinciale di ordine e sicurezza non l'ho apprezzato. Significa svilire e non rispettare l'istituzione. Sui comportamenti definiti anarchici, il prefetto faceva forse riferimento ad alcune iniziative che il comune di Riccione voleva prendere durante il lockdown, come partire con i test sireologici a tappeto o riaprire le spiagge prima delle decisioni della regione. Letta queste parole? Renata Tosi ha attuonato accusando il prefetto di fare politica e di dare alle pagelle ai promossi e ai bocciati. Riccione al comitato c'era con due funzionari specializzati, ha precisato la prima cittadina. Camporotti, inoltre facendo il punto sulle fragilità del territorio, ha anche sottolineato come Rimini sia la provincia più povera dell'Emilia Romagna e che questo si lega con l'impatto della criminalità. Un'uscita che non è piaciuta alla sindaca della Perla Verde, secondo la quale il prefetto così offende i cittadini della provincia di Rimini, non conosce il territorio e la sua economia. Uno scontro istituzionale che ha pochi precedenti.